Qual è il tuo voto? Sì, non guardiamo soltanto i teenagers, c'è anche tutto... Ma se loro si presentano in coppia, ma perché li dovete di nì? È verissimo! Poi uno non è che deve entrare... Scusatemi, però... Non ti parla la persona sbagliata, eh? Perché anche tu cantavi in coppia! Allora, Rita, scusami, no, perché scusate... Non vuol dire che non è andata... Allora, no, allora, allora... Posso? Allora... Adesso ti rispondo bene. Tu sai che ho massima stima per te. Quando Anna dice adesso ti rispondo bene, sedetevi. No, aspetta, perché con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera, ognuno è un cantante che fa una roba. Abbiamo fatto solo una canzone insieme, un nuovo bacio, vent'anni fa. Ma mi sembra che lui dopo trent'anni sta ancora in giro, io dopo vent'anni sto in giro. Apro e chiudo parentesi. Per quanto riguarda la separazione, ovviamente, nel lato privato, è ovvio, io sono l'ultima che deve parlare. Ma qui penso un po' tutti, eh? No, io no, sono cinquantotue anni che... Tocco lo stesso uomo!